Si ricomincerà con un rinvio dal fondo per il portiere dello Spezia Dragovski Quella che termina fuori senza nessun tocco, la rimette in gioco Cacace, Luperto Poi Smiley che ha ricevuto da Vignato, Stojanovic, pressato da Rezza, torna Sul portiere Vicario Lancio lungo, ci sono diversi giocatori in mezzo all'area, compreso Cambiaghi Il suo cross è respinta, poi il tentativo di controllo Spezia mette fuori, arriva Cacace che calcia, c'è Vignato, ci riprova anche lui 2-2, Vignato, il pareggio al 94esimo La rimonta dell'Empoli è completa Vignato firma il 2-2 Mischi in area di rigore, serie infinita di batti e ribatti E alla fine Vignato in sacca, primo gol per lui con la maglia dell'Empoli Ed è un gol che può valere tantissimo per la squadra toscana Il pareggio di Emanuele Vignato Dopo un'azione infinita, Satriano, poi serie di respinte Ci ha provato Cacace e poi alla fine è arrivato Vignato Che ha ribadito in rete, calciando di prima intenzione con il destro 2-2, rimonta completata E adesso 45 secondi da giocare Chiaramente l'Empoli proverà a non fermarsi qui Luperto Calcio di punizione a favore dell'Empoli C'era una posizione di fuori gioco, credo Da parte dei giocatori dello Spezia Scatto da parte di Cacace Che lascia il pallone in mezzo al campo a Marin Avanza Marin per poi tornare da Cacace Cacace salta un avversario, entra in area di rigore Prova La conclusione diretta in porta Dragovski fa buona guardia Effetto la parata a terra Si rivede l'iniziativa di Cacace Il rinvio da parte del portiere Dragovski Colpo di testa Paglia seguita da Holm Si gioca ancora Siamo oltre il 95esimo Ultima chance probabilmente per lo Spezia Holm Palla che termina sul fondo Sarà rimessa per Vicario Sotto il cronometro giù Finisce così E due a due al Castellani Fra Empoli e Spezia Rimonta Nella squadra di casa dopo la doppietta Nel primo tempo di Verde Vignato raggiunge gli avversari Sul pareggio nel recupero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.